Come trasformare le nostre paure in punti di forza? La paura è una delle emozioni primarie dell'essere umano, quindi è impossibile eliminare la paura. Abbiamo tantissime paure e tutte in realtà sono legate alle esperienze passate. Quindi se non possiamo eliminare la paura, come posso trasformare la paura in punto di forza? Allora, la paura in realtà è l'antitesi dell'azione. Quindi, come faccio per abbassare la paura? Devi agire. Devi fare quel piccolo passo che ti porterà a fare un'esperienza diversa e che ti darà la dimostrazione che quella paura magari era solo un'illusione della mente. Perché la paura è una creazione mentale e quindi come tutte le paure, se vengono alimentate nella mente, si ingigantiscono. Quindi per abbassare la paura devo agire. Devo fare quella piccola azione che mi porterà a vivere un'esperienza diversa e mi darà la testimonianza che io quella cosa ce la posso fare, che io quella cosa la posso ottenere. In quella determinata situazione io sarò in grado di gestirla. Quindi comprendi quali sono le tue paure e inizia veramente a fare un piccolo passo per andare oltre a quella paura. Ad agire. È l'azione che fa la differenza. Mara Mussoni, coach e formatrice, aiuto e affianco le persone dando gli strumenti pratici affinché possano riprendere la loro vita nelle mani. Seguimi nei miei canali Facebook, Instagram e LinkedIn e se vuoi maggiori informazioni come acquisire consapevolezza attraverso un metodo specifico che ha aiutato tantissime persone, contattami in privato.